È stata una grande testimonianza di fede universale, la celebrazione solenne che si è tenuta in cattedrale a Verona per la chiusura del processo diocesano di beatificazione di Don Bernardo Antonini. Presenti anche 13 sacerdoti russi e 50 pellegrini, a presedere il Vescovo di Verona Zenti, affiancato dal Vescovo Emerito Carraro, dall'Arcivescovo della Madre di Dio a Mosca, Paolo Pezzi, dall'Arcivescovo Emerito di Karaganda Schneider, dall'Arcivescovo di Minsk, Kondrusievich, che era a Mosca quando Don Bernardo aprì il seminario, che diede i primi preti cattolici dopo 82 anni di silenzio della Chiesa Cattolica russa. Lei l'ha conosciuto bene Don Bernardo? L'ho conosciuto molto bene, ricordo l'anno 1991, quando Giovanni Paolo II mi ha mandato dalla Bielorussia in Russia e subito dopo ho ricevuto una telefonata in lingua inglese, parla un sacerdote, dice che si chiama Don Bernardo Antonini, un professore della Sacra Scrittura e voleva lavorare in Russia. Ma come mai? Ma va bene, non c'erano sacerdoti, non c'erano sacerdoti, non c'erano le chiese, non c'era letteratura, niente. Ma arriva, grazie a Dio c'è un dono del cielo e veramente dopo abbiamo scoperto subito che è una persona straordinaria. Don Ghi ricordo è molto vivo e devo dire, anche se io l'ho conosciuto, l'ho incontrato una volta sola, ma quello che mi stupisce sempre è quando visito le nostre comunità in tutta la Diocesi, e a volte mi è capitato anche fuori della Diocesi in Russia, che ci sia, adesso non dico sempre, ma quasi sempre qualcuno che mi parla, mi ricorda Don Bernardo, mi racconta qualcosa di lui, e questo è qualcosa di vivo, molto vivo e attuale, cioè non è qualcosa che si è passato nel tempo. Sembrava l'epoca giusta per una persona dell'energia di Don Bernardo, un'epoca pionieristica in cui il mondo cambiava completamente, la Russia era al centro di questi cambiamenti, e lui lo ha colto proprio nella fase della perestroica, ha saputo arrivare nel passaggio, nel passaggio critico, e lo ha saputo interpretare, a volte sbagliando, ma in generale con un'intuizione incredibile, e guidato da un amore, da una passione per quello che faceva e per la Russia. Per esempio, io sono rimasto affascinato da come lui utilizzasse la lingua russa. Don Bernardo iniziò quasi sessantenne, la sua avventura in Russia, animato da una fede incrollabile, da un amore profondo per quel paese, e da un grande rispetto per gli ortodossi, come ha testimoniato la presenza, la celebrazione dell'arciprete Vladimir Fyodorov e di un diacono ortodosso. Nell'Omelia il Vescovo Zente ha ricordato l'amore di Don Antonini per le Eucharistie e la confessione, il suo dare tutto con eroismo andando al di là delle incomprensioni e desiderio di essere un Vangelo vivente, come testimoniò anche nell'ultimo anno vissuto in Kazakistan a Karaganda. Al termine della celebrazione, il giuramento degli addetti e la sigillatura degli atti originali, a chiusura della fase diocesana del processo di beatificazione, ora l'iter proseguirà a Roma.